Una gara bellissima, mi sono divertito veramente come un matto perché è stata una gara lunghissima, ho sofferto i giorni prima in una maniera che non mi era mai capitata, però probabilmente mi è servito per riuscire a tirare fuori quello che avevo dentro e tutto il lavoro che ho fatto gli anni scorsi, quest'anno che ho lavorato veramente tantissimo. È andata bene per fortuna perché ormai le gare credo che saranno tutte così, ormai ci si avvicina a Rio, i nostri avversari sono cresciuti tantissimo, anche se l'anno scorso abbiamo fatto delle ottime gare, però ormai si sono adeguati sia allo schema che alle finali, tant'è vero che in semifinale io con 15 ho spareggiato con altre 4 persone per poter accedere alla finale per loro. Quindi vuol dire che sarà sempre più difficile, però continuiamo a lavorare bene come stiamo facendo e ringrazio anche la federazione, l'esercito e i miei sponsor Beretta e Fiocchi perché mi stanno supportando nel migliore dei modi. Ho lavorato molto a casa perché purtroppo il tempo da noi non è stato, a casa mia in particolare, non è stato dei migliori. Ho lavorato quindi molto a casa con lo psicologo, con il mio psicologo Manolo Cattari, che saluto, che è stato probabilmente determinante. Poi abbiamo fatto non meno di cinque raduni con il resto della squadra nazionale, per cui un grande merito del coach Benelli e anche della federazione e dei miei compagni di squadra che mi hanno sostenuto nei momenti difficili.